La pistola in bocca, le botte e le urla. Dimmi dove stanno i soldi, altrimenti ti ammazzo. Sono le minacce ricevute da un imprenditore di Bisceglie da parte di uno dei quattro rapinatori che la notte tra il 10 e l'11 luglio scorso hanno fatto irruzione, armati e travisati in casa sua. Tutti sono stati arrestati dalla polizia nelle scorse ore. Si tratta di due cinquantenni, due trentacinquenni baresi e un ventenne di Bisceglie, tutti con precedenti penali. Dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti della squadra mobile di Bari, l'uomo era rincasato da poco ed era intento a conversare con la compagna al telefono quando i rapinatori hanno sfondato la porta di casa e dopo averlo immobilizzato, legandogli le braccia al torace con del nastro adesivo, si sono subito impossessati di un Rolex e del portafogli. La compagna della vittima ancora in linea al telefono, sentite le urla, è immediatamente allertato il 113. I rapinatori intanto, non essendo riusciti a trovare altro denaro, hanno costretto l'imprenditore ad accompagnarli negli uffici aziendali alle spalle dell'abitazione, intimandogli di mostrare loro dove fosse la casaforte e aprirla. Ma dopo aver dichiarato disperatamente di non avere alcuna casaforte, i malfattori sono scappati, tentando, senza riuscirci, persino di portare via un Audi di grossa cilindrata. I quattro pregiudicati sono riusciti a portare a termine il colpo e a scappare, grazie alla collaborazione di un ventenne basista di Biceglie. Solo l'arrivo della metronotte ha consentito all'imprenditore, rimasto solo e ferito per diverso tempo, di raggiungere l'ospedale per le cure, viste le gravi contusioni riportate al volto. I poliziotti giunti sul posto hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. La ricostruzione non è stata semplice per gli inquirenti perché i rapinatori, al fine di ostacolare le indagini, avevano portato via il DVR con le immagini dell'impianto di videosorveglianza della casa della vittima e disattivato linee telefoniche e allarme antirapina. Nonostante questo, grazie alle intercettazioni, agli elementi raccolti dalla scientifica e le testimonianze della vittima, i poliziotti sono riusciti ad individuare i presunti responsabili. Per tre di loro è stata notificata la misura cautelare in carcere perché già detenuti per un'altra rapina i danni di un autotrasportatore lo scorso mese di giugno. Il bassista a ventenne è stato portato in carcere il 16 febbraio scorso, l'ultimo è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia dopo 24 ore di irreperibilità. L'accusa è di rapina pluria aggravata, porto illegale d'arma da fuoco e lesioni personale aggravate in concorso.